Nella sala conferenze Benedetto Croce del Palazzo dell'emiciclo all'Aquila si è svolta la prima conferenza regionale sui domini collettivi. Un incontro pubblico dove i due presidenti di commissione Pietrucci e Berardinetti hanno presentato le proprie relazioni sull'argomento confrontandosi con i rappresentanti delle amministrazioni separate e tutti i portatori di interesse generale che hanno potuto avvalersi anche del contributo degli esperti dell'università Aquilana. A coordinare i lavori il presidente del consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio. Ho organizzato di mia iniziativa proprio per ascoltare dalla voce dei responsabili delle ASBUC ma soprattutto alla presenza di esperti, il professor Marinelli, il professor Politi, l'avvocato Ludovici, cosa ne pensano loro di questa proposta di legge. Siccome è una proposta di legge molto importante che riguarda le terre di uso civico c'è tutta una normativa nazionale, vediamo come se occorre fare delle modifiche e delle integrazioni al testo presentato in commissione in modo tale che anche la regione si possa dotare di uno strumento moderno che riguarda l'uso e l'utilizzo delle terre civiche ma soprattutto per dare autonomia a quegli enti che gestiscono, gestiscono, organizzano ma soprattutto promuovono l'uso delle terre civiche. Dopo la presentazione della legge in commissione da parte del sottoscritto presidente del capogruppo del PD Sandro Mariani e dell'assessore Pepe venga questa riunione convocata oggi pomeriggio dal presidente del Consiglio in quanto è un motivo di confronto sul testo che abbiamo depositato il riordino della legge regionale sui usi civici. Una legge regionale che abbatte e toglie dalla circolazione di otto leggi regionali e dà la possibilità dopo la legge nazionale di riequilibrio e dare delle certezze ai comuni, le asboche e tutti i soggetti interessati sull'utilizzo delle terre uso civiche della regione Abruzzo.